Buonasera a tutti, grazie per essere presenti questa sera. Leggerò il disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento presi dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Pertenza sul rischio, il trading di prodotti finanziari in leva comporta un altro grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono accedere all'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Bene, il disclaimer l'abbiamo letto. Allora, questo webinar è presentato dal sottoscritto. Sono Giuseppe Cericola, responsabile Italia per TICMIL. Oltre a questo sono un trader dal 2008. Adesso non voglio annoiarvi con la mia storia personale, ma giusto una breve presentazione per farvi capire poi chi vi parlerà delle varie strategie che proporrò questa sera. Mi sono specializzato prettamente sul Forex con un focus su euro-dollaro e questa sera vi proporrò quella che è la mia esperienza e in più tutti quei consigli che ho ricevuto dai miei clienti, da quei clienti che diciamo sono profittevoli sul mercato e quindi ho cercato un attimo di raggruppare tutti questi consigli e di darvi un punto di riferimento perché reputo che sia comunque importante impostare un rapporto di fiducia tra il broker e poi anche i clienti. Appunto, parlando proprio del broker e prima quindi di entrare nel vivo delle strategie, vi introduco il broker che rappresento che appunto è TICMIL. Quest'anno siamo cresciuti davvero tanto e grazie soprattutto, so che ci sono molti clienti di TICMIL, grazie soprattutto ai clienti che hanno dato fiducia al broker e il motivo per cui siamo cresciuti così tanto, sta nelle nostre caratteristiche che adesso vi vado ad illustrare. Quindi TICMIL è un broker non di desk con commissioni tra le più basse del settore spread a partire da zero, forte regolamentazione FCA UK e fondi custoditi in conti segregati e separati dalla società. Inoltre i fondi sono assicurati fino a 50.000 sterline. Nessuna limitazione sui profitti, tutti i tipi di expert advisor e strategie sono permesse, non ci sono record e l'ordine viene eseguito al miglior prezzo disponibile, quindi anche con la possibilità di ricevere gli slippage positivi. Questo grazie alla velocità di eseguazione ultra rapida, una media di circa 0,1 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Ci sono diversi mercati come Forex, CFD, tra cui anche il Fuzzimib, abbiamo aggiunto da poco il Bitcoin, siamo uno dei pochi broker che non ha stoppato l'operatività su questa criptovaluta e quindi potete tranquillamente negoziare con il Bitcoin. Tra l'altro abbiamo, poi ve ne parlo, inaugurato da poco, un contest con denaro reale dove ai vincitori andrà addirittura appunto un Bitcoin, diciamo tra virgolette vero, quindi ci sarà la possibilità di trasferirlo sul proprio wallet. Poi strumenti di trading come AutoChartist, la WPS, il one click trading e demo limitata, non ci sono costi su prelevi e depositi, c'è un programma partner TicMill e l'assistenza come dichiarazione sul capital gain fornita da uno studio commercialista esterno dal cellemail.marcod.com. Questi sono i server sparsi nel mondo, circa 10. 2015. Questa è l'offerta spread di commissioni TicMill a confronto con altri broker, potete voi stessi controllare queste informazioni perché su un broker esterno, che non ha nulla a che fare con TicMill che è MyFXBook, che raggruppa un po' tutte le commissioni e gli spread che i vari broker offrono alla propria clientela e quindi vi potete fare un quadro della situazione. Questo è un altro sito poco conosciuto dove va anche qui a assumare un po' le commissioni, anche qui TicMill è tra i primi broker del panorama mondiale. Potete provare il conto di benvenuto di TicMill con 30 dollari, come costruire un portafoglio di strategie di trading in vista del 2018. Allora, io questa sera ho una grandissima responsabilità perché adesso siamo circa 150 partecipanti e quindi devo in qualche modo fornirvi delle informazioni concrete perché avete deciso di investire il vostro tempo e quindi spendere anche il vostro tempo per seguire questo webinar. Quindi cercherò di essere il più concreto possibile con degli esempi operativi, mi sono appunto segnato alcuni punti importanti e cercherò di seguire tutto un filo logico in modo tale da darvi delle indicazioni che possiate mettere in pratica già da domani. Allora, io le ho riassunto in 10 punti. La struttura di un portafoglio di strategie, la gestione del rischio attraverso il rischio rovina e il margine di impips, gestione del profitto sfruttando la frattalità dei mercati, strategie di trading convenzionali e non convenzionali, pattern trend following, pattern mean reverting, i pattern swing trading, aspetti da conoscere per chi fa scalping e le cattive abitudini operativi da abbandonare in vista del nuovo anno e le buone abitudini operative da acquisire in vista del nuovo anno. Allora, intanto che anno ci lasciamo alle spalle? Sicuramente è stato un anno dove è ritornata finalmente la volatilità e abbiamo il re della volatilità, tanto è vero che quando ho creato questa slide, è stato circa due settimane fa, non ho avuto tempo di aggiornarla perché adesso non siamo sui valori di 12.000, siamo se non sbaglio intorno ai valori di 16.000 con punte di 20.000 dollari sul bitcoin, quindi diciamo che è il re della volatilità e appunto poi il bitcoin, che sia poi bolla o che sia l'investimento del secolo, quello non è l'oggetto del webinar. Dal mio punto di vista di trader, dico soltanto che laddove c'è volatilità e quindi quella volatilità che io chiamo buona e quindi bitcoin ha sicuramente dato dell'ottima volatilità ai trader. Ma anche l'euro-dollaro è stato comunque un cambio molto molto volatile in questo anno rispetto diciamo anche al 2016, ha avuto comunque un bias rialzista grazie poi diciamo a delle strutture macroeconomiche che adesso non vado ad approfondire, però c'è stato appunto un rialzo portentoso da 1.05 fino a 1.20. Vado molto veloce perché sapete sicuramente come sono andati i mercati, Futsimib lo stesso, il DAX ha avuto comunque una salita ma con una fase di prolungata lateralità soprattutto intorno a giugno-agosto. L'NC&P 500 ha continuato a salire nella sua salita quindi sale a rotta di collo, lo ha fatto anche nel 2017, poi il Gold ha avuto comunque una fase di lateralità molto molto accentuata soprattutto all'inizio dell'anno e questo è il WTI. Allora con il senno di poi vediamo un po' come sono andati i mercati tenendo conto che questo l'ho fatto circa due settimane fa quindi soprattutto la percentuale del Bitcoin. Questo per dirvi che senza farsi troppe paranoie per chi l'avesse acquistato a gennaio e venduto a dicembre avrebbe sicuramente guadagnato su molti su molti su molti strumenti. Vediamo un po' i benchmark che cosa hanno fatto. Questi sono dei fondi, questi fondi vengono divisi su un sito, adesso non ricordo bene il nome, però vengono selezionati dei fondi in base alla strategia che applicano o almeno a quella che dichiarano. Come possiamo vedere sostanzialmente chi ha operato in trend following quest'anno ha guadagnato. Chi invece ha negoziato in contrarian sostanzialmente non ha fatto grosse performance perché i primi due che vedete nella lista sono comunque anche dei fondi comunque trend following che abbiamo visto nella precedente lista. Quindi gli altri diciamo che comunque hanno avuto delle performance sicuramente non entusiasmanti. Chi ha negoziato, scusate, seguendo l'analisi fondamentale sostanzialmente nella maggior parte dei casi ha perso o comunque non ha avuto grosse performance. Chi ha negoziato seguendo dei specifici pattern ha comunque diciamo nei primi tre della lista hanno guadagnato chi ha fatto lo diciamo la strategia in spreading ed edging. Questi tre soltanto sono riusciti a trovare nella lista hanno guadagnato e ho preso anche dei benchmark retail che hanno avuto delle performance sicuramente più alte rispetto ai fondi ma perché lì parliamo di ovviamente di ben altri importi e quindi le performance diciamo che sui retail vengono sempre amplificate perché comunque quello che viene investito è molto inferiore rispetto al fondo che poi può avere anche altre logiche di investimento e quindi non sempre il fondo è alla ricerca della performance perfetta. Salta subito all'occhio di questi benchmark retail delle performance sicuramente alte ma vedremo come poi questo 77% che può far gola a molti sia frutto di un average win e loss inferiore al rapporto di 1 a 1 quindi poi questo ve lo spiegherò bene. Tra l'altro non so quanti di voi in chat seguono il rischio rovina ma non hanno dei rischi rovina così altissimi siamo intorno a circa 200 trade quindi il rischio rovina già ve lo anticipo significa che il diciamo questo conto per azzerare tutto il capitale dovrebbe prendere 200 stop eh di fila in base al rischio che sta gestendo adesso attualmente il questo tipo di eh di trader quindi un altro questo è il secondo in classifica non ha avuto eh sicuramente più basso come eh come performance anche qui vedete un 86% di eh di percentuale in profitto eh ma un average win loss molto eh molto a sfavore quindi laddove eh vedete delle performance esaltanti andate sempre poi a parametrizzare con l'ever and win e loss e soprattutto poi con il rischio rovina perché anche qui non è proprio altissimo. L'ultimo eh il terzo della classifica eh questo addirittura ha un'aspettativa vedete qui eh non so se si vede quello segno non proprio altissima per essere eh diciamo un servizio di copy training perché poi dovete considerare anche il markup che viene applicato e anche qui un 90% di eh di profittabilità per avere poi eh queste eh questo average win e loss molto a sfavore eh quindi abbiamo visto che i primi tre in classifica non hanno un un average win e loss eh a favore ma eh puntano più ad avere delle percentuali del un'alta percentuale di profitto che fa molto gola a ai trader retail eh anche quando parlo con eh molti clienti la prima cosa che mi chiedono quando eh si analizza un un expert è se eh che percentuale di profitto ha eh senza poi andare a considerare tutte le altre eh varianti che ok entriamo finalmente nel vivo la struttura di un portafoglio di trading eh allora cancella tutti i disegni allora e la base importantissima eh a mio avviso è la gestione del rischio poi c'è la gestione del del profitto e in ultimo la eh le strategie ehm che cosa dobbiamo tenere eh in considerazione quando parliamo della gestione del rischio dobbiamo assegnare ad ogni strategia un margine in pips controllare costantemente il proprio rischio romina attraverso MyFXbook e aiutarci con strumenti semi automatici che possano monitorare costantemente il rischio del conto e se necessario chiudere eh automaticamente le operazioni a raggiungimento di drawdown prefissati allora ehm adesso passiamo un po' nel dal lato operativo eh il primo aspetto assegnare ad ogni strategia un margine di pips allora esco dalla eh presentazione e vado aprire il la gestione del rischio faccio un esempio allora ehm mettiamo il caso che abbiamo un capitale iniziale di mille euro e vogliamo assegnare alla strategia un margine in pips di eh di cinquemila eh pips che sites dobbiamo utilizzare allora senza fare troppi calcoli astrusi con questa tabella che poi posso darvi tranquillamente perché è una semplice eh tabella Excel la sites singola che dovremmo utilizzare per avere un rischio adeguato in questo caso di zero virgola eh zero due quindi se eh voglio aumentare o diminuire il margine portarlo ad esempio un margine di mille pips questo sistema in automatico mi dice eh la sites singola per ogni ordine se ad esempio qui io voglio entrare con dieci ordini me la sposta zero zero uno per avere sempre lo stesso margine eh in pips allora la domanda che ehm dobbiamo fare dobbiamo farci quando facciamo punto training è io conosco eh il margine che voglio utilizzare per la mia strategia conosco la volatilità del del mio strumento ad esempio se è un margine di eh mille pips e ogni mio stop mi costa cento pips va da sé che al mio sistema ho soltanto dieci operazioni buone prendere dieci stop di fila in un nel training è assolutamente è assolutamente eh fattibile perché purtroppo ci possono essere dei periodi di drawdown eh prolungati e quindi quella che chiamo io la pazienza del conto di training è molto bassa perché io appunto ho un eh ho soltanto un eh dieci stop eh con questo tipo di di margine in pips quindi che cosa devo fare sicuramente aumentarmi il margine in pips metterlo magari su diecimila spostandomi ovviamente il max order su uno con diecimila poi ovviamente si portano a cento stop di fila quindi il mio diciamo rischio rovina è salito ulteriormente quindi dobbiamo assolutamente conoscere il lo strumento con cui su cui andiamo ad operare eh ad esempio vi faccio un esempio pratico sull'euro dollaro mediamente la volatilità eh oraria di venticinque pips quindi se io eh voglio avere ehm eh con con diecimila di margine io ho ben quattrocento operazioni con lo stop di venticinque quindi ho eh diciamo do eh al mio conto molto respiro quindi il mio conto ha molto a molta pazienza perché per prendere quattrocento stop di fila io ho tutto il tempo per capire le cose che non vanno cercare di capire se sto sbagliando per il bias di mercato o perché proprio la strategia è sbagliata è normale che se io applico una strategia trend following non posso eh sempre guadagnare se la mia strategia perde nelle fasi laterali la mia strategia trend following perde nelle fasi laterali è assolutamente una cosa normale di cui non devo allarmarmi quando mi allarmare quando il trend parte e io non riesco a guadagnare con quella strategia però capite bene che se date un margine in pips troppo basso ehm non potete dare respiro alla alla vostra strategia perché vivrete soltanto dieci situazioni come vi ho fatto vedere prima perché se su mille euro lo rifaccio margine in pips ho soltanto di margine di mille quindi la size singola è di 0 10 e non ho non vado da nessuna parte perché eh se su mille adesso su mille ehm con venticinque di stop passo a 40 dal quattrocento che avevo quindi eh Enzo mi chiede cos'è esattamente il margine in pips per farvi capire quanti sono mille pips sul grafico quindi con questo tipo di eh di marginazione su un grafico daily potete diciamo lavorare su tutta questa fascia di ehm di volatilità quindi sicuramente se lavorate in intraday con una fascia di volatilità così alta potete fare tutte le operazioni che che volete però ovviamente va tutto rapportato al capitale quindi con una semplice tabella io dico ho un capitale di diecimila quella volatilità mi va bene perché eh ho visto che storicamente per fare questi mille pips euro dollaro ci impiega un anno o un anno due anni quindi ho tutto il tempo per porterci lavorare sopra per poter fare tutto il mio eh le tutte le mie strategie tutte le mie eh diciamo eh valutazioni e quindi mi può andare bene un margine di mille pips e quindi posso utilizzare una size singola di un di un pips se poi voglio tenere questo margine di pips costante al cambiamento del capitale quando andrà su novemila il capitale mi dirà già che dovrò utilizzare una size di zero novanta quindi abbasserò contestualmente la eh la size operativa per avere sempre lo stesso eh margine eh in pips vi assicuro che questa cosa è eh molto molto utile eh soprattutto quando non avete le idee chiare non sapete che cosa eh state facendo e eh volete fare tutte le prove di questo mondo ehm tra l'altro qui ci sono molti utenti della chat telegram che vi ho postato all'inizio eh c'era stato un caso in questi giorni in cui un utente ha scartato un un expert eh dopo appena venti trade negativi eh è vero che c'era stato dietro un lavoro di backtest però reputo che al di là del backtest eh su carta bisogna eh affrontare un periodo di ehm di eh verifica sui mercati reali e quindi farlo girare sempre con il solito MyFXbook eh e quindi avere delle statistiche eh oggettive quindi adesso tornando alla slide eh il rischio rovina eh è l'altro aspetto fondamentale da da tener conto questo rischio rovina però voi lo avete dopo che avete che siete già a mercato eh dove eh si va a prendere questo rischio rovina e innanzitutto avete bisogno di ehm eh di collegare il vostro conto a MyFXbook ad esempio il rischio rovina delle strategie che stiamo attualmente monitorando anche in chat lo vedete da qui e su queste strategie vedete come un rischio rovina è abbastanza alto molto alto quasi il doppio se non sì il doppio rispetto a quelle strategie che abbiamo visto prima quindi una strategia del genere sul lungo periodo è molto robusta perché vi permette appunto di eh di vivere tutte le situazioni di mercato eh che si possono eh susseguire appunto sui mercati un altro aspetto molto importante ma che viene molto sottovalutato è quello che poi ho accennato quando vi ho fatto vedere i conti di eh di MyFXbook è l'impatto del risk reward su eh sui pattern di training ehm allora eh questa è un'immagine che mi ha postato un un utente della della chat che io poi ho subito ripreso perché eh credo che qui ci sia un po' tutta l'essenza eh in pratica avevo chiesto di far valutare un la profittabilità di un pattern specifico lo swing che poi lo vedremo eh eh io ho chiesto appunto di eh da la scusate la la percentuale di profitto del del pattern ehm allora sul come potete vedere sul man mano che il il risk reward ehm va a favore diciamo del reward nel senso perdo uno minco tre come in questo caso vedete come la percentuale di eh di profitto poi diminuisca questa cosa può essere banale ma è molto sottovalutata perché eh molti trader vanno più eh sulla profittabilità alta tralasciando proprio questo questo aspetto è normale avere delle adesso poi ve lo dimostro in maniera empirica che eh laddove abbiamo un 80 per cento di profittabilità non avremo un rischio reward ehm un rischio reward adeguato nel caso dovessi mai trovare una strategia con un 80 per cento di profittabilità con un risk reward di tre eh sarei disposto comunque a eh a investire moltissimi eh moltissimo capitale in questa strategia ma ad oggi non ho non ho avuto la fortuna di eh di trovarlo non so voi però è molto è molto è molto complicato e adesso lo vediamo con un eh un esempio proprio pratico del calcolo del risk reward sempre eh aiutandoci con 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 Excel eh se ad esempio io metto uno stop di 100 pips e un gain di 90 e ho una percentuale di profitto del 50 per cento quindi sto semplicemente lanciando una monetina sul lungo periodo sono perdente mi sembra chiaro evidente io ho ho lanciato la monetina sono sul 50 per cento su oltre 5.000 lanci io sono sono sempre perdente su con un loss di 100 un gain di 90 eh se alzo questo gain e lo porto ad esempio su 200 di un risk reward di uno a due con il 50 per cento eh sono sempre vigente è banale voi mi direte ma allora perché i trader si ostinano a ricercare e magari a negoziare su strumenti dove non hanno mai il risk reward a favore il risk reward a favore va bene se avete il 90 per cento sempre di profitto in questo caso salite ma man mano che scende la profittabilità è molto difficile essere al 90 per cento di profitto sul mercato perché eh noi non sappiamo se stiamo eh eh negoziando una una inefficienza di mercato e allora è palese non è stata ancora scoperta l'inefficienza di mercato e quindi possiamo vincere il 90 per cento di eh delle volte ma se negoziamo dei pattern normali di analisi tecnica nessun partner di analisi tecnica non sono io a dirlo ma ci sono anche degli studi dei libri che dimostrano che eh la eh profittabilità di questi partner è sul 50 per cento delle volte noi non riusciamo ad essere eh profittevoli sul lungo periodo se ci affidiamo a partner di analisi tecnica e manteniamo un risk reward del genere perché come vedete man mano che io scendo di di profittabilità mantenendo sempre il 100 sul 90 perdo man mano la mia equity diventa sempre più brutta fino arrivare magari al 40 per cento che è normalissimo dove sarò sempre perdente non parliamo poi del 30 per cento sul 30 per cento se io ho un risk reward di 1 a 3 che come vediamo che abbiamo visto dalla eh da questa analisi che è stata fatta intorno al 26 per cento con un risk reward di 1 a 3 guadagnando soltanto il eh il il 30 per cento delle volte riesco comunque in una eh ipotetica serie storica ad essere eh ad essere profittevole eh se metto random io adesso non so il 90 per cento io qui faccio partire una serie storica senza sapere che cosa la la percentuale di profitto quindi è randomica con 190 io perdo dopo un periodo magari di eh di guadagno vedete come eh soffre l'equity mentre se ho un risk reward ma anche di non non per forza di di 1 a 2 1 a 3 anche di di 100 a 150 ho comunque eh una profittabilità eh molto più elevata posso avere subire delle fasi di drawdown ma eh comunque eh sul lungo periodo sono vincente questo quindi con il margine in pips con il rischio rovina con un giusto risk reward io ho già una base di partenza molto solida a questo posso affiancare o la mia bravura come trader ci sono molti trader che non li guardano nemmeno i grafici e sono bravi e quindi riescono ad essere profittevole oppure affidarmi a delle regole oggettive che poi andremo a vedere per avere una eh una diciamo profittabilità sul lungo periodo l'unica premessa che faccio quando scegliete un risk reward quindi magari come in questo caso di 100 150 dovete includere sempre i costi di transazione perché quelli incidono molto soprattutto per su questi risk reward molto ravvicinati ok qual è un trucco per avere un risk reward sempre a favore allora ehm andiamo a vedere su una su una strategia un risk reward sempre a favore è molto eh semplicemente magari posizionarsi sul eh grafico daily ad esempio io trado sul un pattern di breakout sul grafico daily lo stop lo vado a posizionare sul sul su questo livello di supporto a 78 23 che mi viene segnalato in modo oggettivo da questo indicatore eh che si chiama supporto e resistenza di barbi se non sbaglio che tra l'altro poi è uguale ai frattali quindi è la stessa cosa quindi io posso adoperarmi con uno stop qui sotto e e dire se qui ci sono queste resistenze no io non so quale resistenza adesso devo andarmi a prendere perché questa che mi dice che questo sia meglio di questo o quest'altro o quest'altra per evitarmi tutte queste paranoie semplicemente mi riporto su un grafico eh su un time frame superiore e mi vado a cercare la prima resistenza sul grafico weekly che vedete essere intorno ad l'area 82 e 77 quindi diciamo che ho un rischio di circa c'è un ipotetico guadagno di 350 contro un ipotetico stop di 130 quindi vedete che ho come come con una semplice regola oggettiva non opinabile io mi sono creato un risk reward eh quasi sempre a mio favore quindi questo non è che lo potete fare sul sul daily ma lo potete fare anche sull'h1 sull'm30 cioè quindi potete scalare appunto per usufruire della eh frattalità eh dei mercati ok adesso adesso l'altro pilastro diciamo l'altra base importante per questo portafoglio di strategie è costruirsi eh una eh attivare una gestione del profitto in maniera intelligente sfruttando la eh frattalità io ho messo tra virgolette frattalità dei mercati eh che è una gestione tipica adatta a quelle eh trend following swing trading e massimizzare i profitti attraverso l'aumento delle sites operative mantenendo però intatto il margine è operativo in pips una non esclude l'altra potete utilizzare entrambe però poi vi faccio vedere proprio con una strategia proprio operativa che sto seguendo in questi giorni come magari non è sempre detto che sia eh la soluzione migliore a utilizzare eh entrambe le eh entrambe le gestioni su su un unico strumento ehm adesso vi faccio una domanda eh dalla prossima slide sapreste dirmi che tipo di time frame è questo? sapreste indicare il time frame di riferimento in questo caso? eh no non è il grafico daily non è il grafico a 15 minuti non è un H1 non è un mensile no 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 allora eh quindi cos'è che ci fa dire quando quando sento nelle discussioni eh si dice eh un partner funziona solo su un time frame alto sull'M5 sull'M1 non funziona quindi passa passa ai time frame superiori perché eh perché le strategie se le fai partire sul sull'M1 sull'M5 non funzionano mio avviso quindi questa è una mia eh particolarissima eh opinione è assolutamente errato perché eh tra l'altro questo nessuno ha detto eh solo Lorenzo un grafico un minuto questo è un grafico ma dopo diversi tentativi questo è un grafico M1 cos'è che fa la differenza tra una strategia vincente o perdente su un ipotetico un time frame quello che incide sono i costi ovviamente di transazione e la volatilità su M1 non posso avere ovviamente la stessa volatilità che avrò sul sul daily quindi dovrò poi adattare la mia volatilità eh la la mia strategia in base alla volatilità del time frame di riferimento e dare un occhio ovviamente ai costi di transazione perché eh siccome vengono mostrati i grafici bid quando voi tradate ehm non c'è almeno che non la mettiate voi la la spunta che vi faccio vedere anche l'ask quindi eh quando ad esempio non lo so eh dovete eh prendere un take profit eh in long non vi viene eseguito in bid ma vi viene eseguito in ask la stessa cosa lo stop quando mettete lo stop di se siete short eh non venite eseguito in bid eh sì Andrea c'è la possibilità ovviamente è molto tutto più veloce quindi è come eh come aumentare la velocità i tempi di reazione sono sicuramente molto è una cosa è guidare a 300 chilometri orari è una cosa farla a 100 chilometri orari quindi quello è sicuramente la difficoltà e quindi applicare una strategia eh intraday scalping su un grafico a un minuto richiede sicuramente un occhio ben allenato una preparazione psicologica eh e un ovviamente tempo perché dovete stare lì sul grafico e aspettare il setup eh tradarlo prendere le decisioni in in tempi molto rapidi quindi cosa che ovviamente sui time frame alti questo non succede però quando si ehm parla di magari di gestione dell'expert eh eh sento dire che una strategia non funziona eh sui time frame bassi ma perché eh funziona solo su quelli alti eh propongo sempre questo tipo di ehm diciamo di di gioco dove chiedo di capire il time frame perché se eh se un time frame m1 è indiscutibilmente chiaro dovrebbe essere eh scoperto al primo colpo in chat nessuno a parte Lorenzo dopo diversi tentativi ha individuato questo grafico nell'M1 lo si fa solo grazie alla scala quindi eh è un discorso che anche questo andrebbe rivisto su cui molte volte i trader si perdono in in chiacchiere che poi non portano assolutamente eh nulla a nulla eh passiamo al concetto di costruzione piramidale perché proprio sfruttando questa questa opportunità che ci offrono i mercati dove un pattern si può verificare su qualsiasi time frame eh quindi possiamo avere un pattern di breakout sull'M1 sull'M5 sull'H1 ci si possono costruire delle situazioni piramidali dove andare a eh costruire delle eh entrate multiple per massimizzare i profitti che è una delle eh regole principali che eh molti trader anche in TIC1000 eh trader con cui ho avuto il modo di eh piacere di parlare utilizzano per sfruttare quei momenti dove la propria strategia funziona cioè dove io sono un trend follower ho il mio pattern eh trend follower mi parte un bellissimo trend a rialzo come poteva essere questo bitcoin e eh lo abbiamo anche qualcosa l'abbiamo fatto sul su queste eh sul bitcoin e sul su alcuni conti proprio su questo conto di swing training c'è stato comunque eh adesso lasciate stare le sites perché ovviamente anche per scopo didattico non uno non può esporsi eh in modo massiccio con le sites perché bisogna sempre dare eh il buon esempio però per farvi capire come una sites così ridicola di zero zero uno con una piramidazione del bitcoin abbia prodotto un eh praticamente l'intero incasso di questo di questo conto quindi guadagnare eh questo importo con delle una sites di zero zero uno quindi con un micro lotto con la piramidazione vi fa capire quanto sia eh eh importante fare una una avere un approccio del genere e quanto e che armi abbiamo noi a disposizione eh contro il mercato qui nessun eh non si possono inventare scuse sul broker o non broker qui nessuno eh può venirvi contro cioè se sbagliate qui potete sbagliare soltanto voi perché se seguite delle regole che io poi adesso vi vi mostro queste situazioni sul mercato capitano è capitato quest'anno è capitato l'anno scorso capiterà se capiterà sempre però quello che dobbiamo eh cercare di capire è di avere pazienza e di cerca e di aspettare il setup giusto perché se siamo un eh se abbiamo delle aspettative da trend eh follower non possiamo eh cestinare la strategia solo dopo dieci stop di fila in un mercato laterale è normale è normale che eh se vado a cercare il mio trend e non e non guadagno eh nelle fasi laterali è più che normale se non guadagno quando invece il trend parte allora sì che ho dei problemi quindi questa strategia del bitcoin può essere eh il bitcoin è stato il lo strumento ideale quest'anno eh anche qui in questa piramidazione eh nonostante diciamo gli spread non siano proprio eh non siano proprio vantaggiosi vedete quanti stop allora era il giorno 29 novembre eh non la trovo comunque palese che in questa giornata la piramidazione è andata a segno sul bitcoin che eh ha permesso poi di di guadagnare e eh e di recuperare tutte le perdite che avevamo accumulato magari ricercando il setup per poi esplodere nei guadagni quando eh becchiamo questo tipo di situazione eh quindi partendo da dall'M1 si può fare non magari non proprio sul bitcoin perché adesso gli spread non sono proprio eh il massimo ma già da un M30 si può comunque costruire quelle possono costruire quelle piramidazioni in base al bias di mercato palese del bitcoin realzista eh e quindi fare dei tentativi ehm però non solo sul bitcoin questa piramidazione potete farla anche su 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 dei cross come GPP e NZD che sono molto volatili vedete come però ovviamente dovete avere sempre un broker degno di nota non avere broker che vi mettono degli spread alti perché eh se vi danno dieci punti di spread la piramidazione sui time frame passi non potete farla però adesso non per fare pubblicità al broker ma comunque degli spread accettabili vi permettono di eh effettuare questo tipo di piramidazione quindi di cavalcare un movimento direzionale e queste sono basate questo è un altro esempio di piramidazione che è fattibile partendo anche sul DAX quindi anche su diciamo trend non proprio bellissimi si possono comunque eh si possono costruire queste queste piramidazioni che poi andiamo a vedere nello specifico e magari aiutarsi anche con eh l'automazione ma questo è un diciamo più un work un work in progress eh dove eh segnalare magari dei pattern ehm questa è una cosa che stavamo studiando con il nostro diciamo programmatore di fiducia eh Salvatore che saluto tra l'altro so che è in chat eh dove appunto ricercare quei pattern eh importanti e costruire poi delle eh delle piramidazioni ehm quindi il primo aspetto è la piramidazione e il secondo è aumentare le sites mantenendo il margine operativo in pips invariate quella cosa che un po' vi ho fatto vedere vi ho accenato prima dove io mantengo il mio margine operativo fisso di diecimila pips e qua all'aumentare del mio capitale aumento la sites ad esempio su diecimila eh ho il margine eh sempre di diecimila quindi appena arrivo a undicimila eh aumento la sites eh di zero undici a dodicimila aumento la sites a zero dodici in modo tale che ho sempre eh sempre il il controllo della della sites adesso abbiamo visto quindi due eh i due pilastri diciamo fondamentali di questa piramide che sono la gestione del rischio e del profitto allora io eh divido questa è una mia diciamo le divido in modo ehm è una cosa che faccio io personalmente per me le strategie di training sono convenzionali e non convenzionali sapreste dirmi quale secondo voi sono le strategie non convenzionali avete idea di che cosa di cosa stiamo parlando eh reti neurali allora ehm le strategie convenzionali sono quelle che conosciamo un po' tutti strategie di trend following adatti allo scalping e intraday al long term di swing trading il mean reverting il contrarian eh strategie di spread trading e eh di trade sono quelle che un po' eh diciamo sono strategie che utilizziamo bene male tutti e che sono strategie che comunque se con il giusto approccio eh o con quello che vi ho mostrato con comunque altri approcci eh validi sicuramente danno dei risultati possono dare dei risultati sul lungo termine quelle non convenzionali sono le strategie di arbitraggio sulla latenza eh qui però vi serve un'infrastruttura eh degna di nota poi ci sono le strategie di arbitraggio eh swap le strategie di training ad alta frequenza per rebate strategie di guadagno commissioni questo eh è una cosa che non capisco perché non tutti lo facciano e poi le strategie di copy trading di copy trading è eh non è legale adesso in in Europa e Ticmill infatti non lo dà come eh non dà servizi di copy trading però rientra comunque nelle strategie non convenzionali ed era doveroso comunque eh segnalarvele quindi poi farvi un esempio eh ecco il portafoglio di di strategie quello che vi ho mostrato prima eh e quindi ehm crearvi un un portafoglio di strategie che vadano a eh intercettare più movimenti di mercato eh possibili nel portafoglio di strategie potete eh metterci tecniche di breakout falsi breakout ehm breakout intraday eh scalping eh quello che volete ehm e quindi adesso eh qui queste statistiche un po' l'esalto perché vi ho fatto vedere già in my fx book allora vi faccio vedere un po' di pattern allora vediamo qual è il pattern il primo che andiamo a vedere molto semplice eh pattern di breakout eh lavorare sulla rottura dei supporti o resistenze confermate eh e in chiusura eh quindi si crea la resistenza la prima barra che è superiore alla resistenza piazziamo un buy stop io opero sempre con ordini pendenti mai con mai con situazioni a mercato eh vediamo direttamente qualche esempio su sul sul mercato eh allora il bias di mercato quando mi hanno chiesto ehm quando mi hanno chiesto come faccio a sapere se devo andare long o short vi dovete creare dei bias cioè delle io li chiamo così ma non so se sia corretto il il termine però qualcuno ehm o qualche strumento vi deve dare una ehm eh una direzione di mercato allora io adesso qui su questo usiamo il termometro Forex eh in pratica incrocia le forze delle valute eh al di là dello strumento che viene dato dal nostro programmatore della chat per i clienti Ticmill al di là di questo non voglio farvi adesso la pubblicità eh su Ticmill o l'altro però potete ce ne sono anche altri in in rete che vanno a misurare la forza delle delle valute quindi trovarvi un bias dalle valute dire ad esempio su eh devo andare long su euro yen perché perché euro a forza e yen a debolezza quindi mi vado ad aprire il grafico su euro yen e devo capire se questo se questo breakout vedete questo breakout ha rotto questa resistenza si è portato qui se questo breakout è degno di nota quindi discrezionalmente posso decidere se fare un buy eh la prima cosa che dovrei controllare è controllarmi se c'è una resistenza eh qui molto lontana la resistenza quindi nel caso dovessi entrare in questa situazione sul grafico daily quindi per la regola che vi ho spiegato prima di aumentare la resistenza sul time frame superiore sarei potuto entrare in questa situazione con target qui è valido non valido questo poi ehm non è questo poi il punto fondamentale perché ovviamente entrare adesso qui non è la stessa cosa che entrare qui quindi quello che io poi eh sì Valerio questo è il pattern che ti dicevo quello che poi bisogna andare a beccare e che poi fa un po' tutta la la differenza è quello che io chiamo il pattern master che funziona con cioè è il primo pattern che dà il via a quello che io cerco se cerco una soluzione una situazione di trend following devo andare a capire qual è il primo pattern è molto semplice oggettivo lo vedete anche voi che il primo pattern è quello che è più vicino alla media mobile a 100 periodi adesso la media mobile non è eh la 100 periodi che ha più poteri della 200 o della 50 ma ehm quando i prezzi si sono intorno a una media mobile ovviamente possono andare in laterale però se deve partire lo fa quando è a ridosso punto di una media mobile eh e quindi questo è il primo è il pattern diciamo quello che poi ha dato via a tutto lo vedete come una eh molto oggettivo eh perché qui non fa repente non fa nulla ehm qui io ho un buy da fare è vicino alla media mobile entro entro in questa situazione e mi vado a cercare il grafico eh superiore un target sul grafico daily eh anche qui avevo fatto già preparato degli esempi eh un breakout che ho negoziato sul ehm qualche giorno fa anche qui vedete il breakout vicino alla media quindi io qui dico questo è un breakout master cioè se deve partire è molto più probabile che lo faccia qui che magari già qui nel senso qui può anche farlo cioè ci mancherebbe però sono molto in ritardo rispetto a questo e quindi eh in questi casi io devo tenere duro andarmi a cercare una buona resistenza quindi adesso per non switchare su time frame magari questa qui era una resistenza su weekly probabilmente lo era e e quindi sarei entrato in questa situazione con obiettivo qui quindi fare questo tipo di eh operazione è è molto molto sensata spero che sia chiaro il il pattern perché è molto semplice cioè aspetto la rottura di una resistenza entro in breakout supporto entro in in short vedete qui ad esempio e adesso qui non so sono contro trend farmi un breakout qui posso farlo come non posso farlo cioè devo andarmi sempre a cercare qual è la prima il primo supporto che può andare a colpire probabilmente sul weekly era questo e quindi sarebbe stato colpito e poi subito eh andando a riprendersi di nuovo tutto a quella entrata ma la media non la set in base ai cicli no non faccio non non seguo i cicli no cerco di di rendere il mio training sempre più semplice possibile senza dover fare troppi ragionamenti per me eh non dico che sia nero o bianco ma ragiono molto eh in modo eh binario nel senso che comunque eh ho il breakout parte oppure non mi parte quindi mi prendo un falso breakout e quindi da lì poi mi costruisco tutte le strategie come appunto eh un un altro pattern di contro trend ma seguo un attimo la scritta perché altrimenti mi perdo e adesso vi faccio vedere un caso di studio di questo pattern RSI più open daily come lavorare in un'ottica intraday solo a favore dell'apertura daily vi chiedo solo un secondo di pazienza quindi dal 18 dicembre perché questo eh l'ho fatto quando avevo tempo eh allora mh che cosa fa questa strategia in intraday sul 5 minuti ovviamente dovete avere eh un broker che ha basse commissioni quindi che vi permette di avere uno spread eh dignitoso eh si entra in pratica utilizzando l'RSI con eh coaduandosi con l'open daily perché l'open daily eh questo poi non lo dico io ma lo dice eh anche lo dice anche anche Larry Williams che se deve partire un un trend molto rialzista è molto probabile che lo faccia eh quando i prezzi sono molto vicini all'open daily con e quindi magari in un trend rialzista hanno i minimi molto ravvicinati all'open daily eh e quindi sfruttando questo tipo di eh di logica si possono effettuare delle delle operazioni eh aiutandosi poi con una gestione del rischio che io ho riassunto in questa in questa eh tabella eh è un caso di studio di una settimana eh l'ho fatto in modo randomico in modo tale da non seguire proprio la settimana ma eh ho fatto questo studio dal esempio dal ad esempio dal 18 di dicembre sarei entrato long su euro eh su gpb usd in questa zona perché perché allora ve lo segno RSI su livello mi sfonda il livello 30 70 quindi rialzista lo fa qui lo fa su questa candela devo piazzarmi un buy stop quindi mai a mercato perché può farti perché anche come in questo caso vedete mi ha rotto al rialzo e poi è sceso subito giù devo piazzare un buy stop su questo massimo quindi piazzando un buy stop posso mettermi uno stop sul primo frattale disponibile che poi è lo stesso indicatore di di barri sul supporto e resistenza la stessa cosa quindi avrei uno stop qui sotto in questo caso la mia giornata eh diciamo di training eh sarebbe partita con uno stop loss perché ovviamente il prezzo poi è sceso quindi questa è una mia lettura poi ovviamente poi potete anche eh mettere eh utilizzare un altro tipo di 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 gestione del rischio ehm quindi preso il primo stop che io ho contabilizzato qui avrei preso meno 21 pips di stop con una size di di 10 dollari quindi con un lotto avrei preso 210 euro di stop quindi che cosa faccio eh seguendo sempre la stessa logica la successiva size aumento di un 20 per cento quindi non faccio una martingala vera e propria ma aumento soltanto l'esposizione di 12 in modo tale che il mio margine in pips che vedete qui non viene stravolto perché è intorno comunque ai 4000 pips quindi significa che devo prendermi una maria di dei stop per bruciarmi questo conto quindi vado a cercarmi la ehm il secondo ingresso che è in quest'area quindi 70 in breakout sempre in breakout e poi seguo il il trend fino ad attivarmi con un training stop che mi dà lo stesso indicatore cioè non devo io capire dove devo uscire ma con questo training stop esco io a mercato e e quindi esco eh da quest'area l'ingresso è solo con l'RSI sì Valerio cioè io entro superiore l'RSI va a 70 quindi non è che perché va a 70 eh più bello del del fatto che va da 50 a 60 la logica la la formula dell'RSI è proprio che eh va a verificare eh i massimi o i minimi rispetto a n barre precedenti in questo caso l'RSI è ehm settato su tre periodi quindi significa che questo eh questo massimo è superiore alle tre barre precedenti quindi può indicare un arrivo dei rialzisti quindi entrando in questa situazione qui ci sono più possibilità che eh il breakout prosegua che eh che che non però per darmi delle regole perché potrei entrare qui voi potreste dirmi entro qui entro qui entro qui no seguendo appunto il daily che ci dà il bias quando mi dicono ma io come faccio sapere se devo entrare long o short lo sai seguendo questa semplice linea che è il daily quindi da qui mi creo tutta una struttura della gestione del rischio che vi ho fatto vedere quindi primo ingresso qui lo sbaglio non mi demoralizzo entro con una seconda sites magari posso tenere la stessa sites la posso aumentare di un po' e vado ad uscire in questa situazione perché vedete che il il training stop eh si attiva in automatico da solo quindi questo tipo di strategia è anche molto automatizzabile cioè perché ha delle regole oggettive quindi diciamo che il primo giorno eh avrei perso 210 euro ma poi avrei guadagnato 46 pips portando a casa comunque questo tipo di guadagno eh il giorno precedente anche qui vedete come il giorno precedente RSI sul 30 eh una cosa che ho messo che bisogna farlo la dopo l'apertura di Londra eh TIC 1000 è un'ora avanti quindi l'apertura di Londra è eh vedete dalle dieci eh dalle ore dieci eh la linea gialla sì è il è il daily è l'open daily che viene già proiettato quindi vedete sempre questo quindi io non entro qui perché non entro qui perché sono contro il daily poi ovviamente eh queste sono sempre prerogative indiscrezionale voi potete fare tutto cioè se avete un bias ribassista su gpb usd perché avete fatto un'analisi vostra potete anche entrare qui comunque eh nessuno lo vieta però seguendo fedelmente diciamo questo tipo di regola in questo caso sarei entrato long sulla prima eh segnalazione di 70 e avrei preso uno stop uno stop qui per poi aspettare un ulteriore eh ingresso short aspettiamo la segnalazione short viene fatta qui però posso entrare o non entrare perché qui ci sono dell'inside io eh metto sempre un pendente che poi subito tolgo dopo dopo se non entra subito perché non mi piacciono l'inside ma potete entrare anche in questa situazione quindi entrando qui con lo stop qui sopra poi avreste eh fatto lavorare direttamente tutto lo strumento con andando a prendervi la eh tutta questa direzionalità che vedete come lo segue bene il frattale e quindi sareste usciti indicativamente eh in questa zona qui e quindi anche il 15 di dicembre eh avreste comunque portato eh a casa la diciamo la pagnotta eh allora vediamo un po' una situazione complicata eh quella del ok 13 dicembre che risulta perdente quindi salto quella del 14 che comunque anzi posso lasciarla quella del 14 perché non è proprio bellissima sarei entrato qui vedete con il training stop uscito qui poi qui sarei entrato in questa situazione sarei potuto eh stato stoppato qui sotto in quest'altra situazione qui sotto allora ecco qui un'altra situazione eh va preso sempre il primo segnale e poi aspettare che il il l'RSI si scarichi questo è il primo ingresso dell'RSI quest'altro qui che mi segnala non è più il primo ingresso perché vedete che il prezzo continua continua a scendere senza andare a a a diciamo a respirare e andare dalla parte opposta quindi in questi casi io non entrerei perché devo aspettare il primo segnale che chiamo sempre master e aspettare appunto che ci sia eh la prima entrata in questo caso non farei questa entrata perché contro trend eh contro l'open daily quindi andando avanti qui short non entro perché vedete che non c'è il pendente anche qui io non entro proprio per il discorso che vi ho fatto perché il primo segnale short è questo è l'indicatore non si è scaricato del tutto cioè non è passato dall'altra parte poi quando passa da quest'altra parte entro in questa situazione vai che poi porto fino a qui dove avrò credo che sia abbastanza chiaro se eh siamo già un'ora e mezza di webinar eh allora troppo non abbiamo eh tempo per il resto allora trend following l'abbiamo visto allora vi faccio vedere un altro pattern min reverting basandosi sulla volatilità basandosi sulla volatilità eh adesso vado a prendermi questo eh esempio qui eh allora eh l'RSI è sui valori di di 70-30 eh era un valore di 3 poi comunque in chat ne possiamo parlare eh bene eh allora vi faccio vedere questo questo indicatore in pratica che cosa fa mi analizza la volatilità di una barra rapportata a eh n barre quindi mi va a fare un rapporto tra volatilità eh diciamo quelle volatilità che non so se vedete quegli strappi magari quegli strappi rialzisti o ribassisti che alcuni dicono che servono per andare a prendere gli stop però questi rientri di solito c'è sempre un rientro di di volatilità eh io mi sono anche qui creato un eh uno studio su questo che vi propongo adesso eh partendo dal eh diciamo dal 14 dicembre andiamo poi al ritroso ehm c'è un indicatore che sempre è stato fatto da da Salvatore ehm quando la volatilità di una barra supera di un in questo caso un fattore di 3 quindi è 3 volte maggiore della volatilità media di 100 periodi io devo cercare un setup contrario posso aiutarmi sia con le Bollinger quando il prezzo va fuori le Bollinger e quindi poi puoi cercarmi un setup short o con i B con questi big round number che sono dei livelli che sono sempre sentiti dal dal mercato quindi quando vedo queste situazioni eh posso utilizzare una strategia contrarian eh qual è l'obiettivo in questi casi posso averne diversi o il ritorno alla media mobile stessa della Bollinger oppure un ritorno all'open daily perché nelle fasi laterali la caratteristica dei quando c'è la lateralità è che il prezzo eh staziona eh in modo anche a volte nevrotico su sull'open daily quindi ci ritorna quindi fa degli strappi e poi ritorna all'open daily e quindi si può sfruttare questo tipo di situazioni eh con questo tipo di strategia quindi c'è uno strappo di volatilità che segnala l'indicatore io entro eh posso entrare questa volta a mercato oppure andarmi a cercare un setup su un grafico inferiore che può essere un m5 o un m1 però qui non entro nel merito perché siamo già ben oltre l'ora e mezza però vi dico che un tipo di approccio del genere può anche eh essere eh valido quindi sarà entrato il quattordici dicembre su quella eh barra che vi ho fatto vedere poi quella del tredici ecco qui per fortuna abbiamo già una situazione difficile perché che cosa succede? Eh non lo fa spesso oggi non credo che l'abbia ieri non credo l'abbia fatto nel mercato laterale eh direzionale vedete che qualcuno potrebbe obiettarmi e dirmi sì eh grazie vado sulle bollinger eh mi fai fare sempre contro i trend in realtà no perché ehm di solito sempre ovviamente sono sempre regole regole di eh che si verificano una certa costanza quando il mercato è direzionale sale sale in modo eh con una volatilità bassa non fa degli strappi enormi infatti in questo caso non è stata mai segnalata una barra contro trend quindi solo in questo caso qui è stata segnalata una barra che però non si è illuminata perché probabilmente era una una barra superiore di due volte e mezzo non so al al trend e quindi poi vedete che in effetti poi è ritornata sui valori ottimali eh e quindi queste sono situazioni che si possono lavorare mh tranquillamente allora però ovviamente ci possono capitare perché eh non non sempre ovviamente viviamo delle situazioni ottimali quindi eh con la stessa logica nella giornata del 13 dicembre io sarei potuto entrare qui short perché qui mi viene segnalato un ritorno della volatilità in questo caso è eh può essere saggio ehm avere un eh diciamo delle entrate multiple quindi darsi quel margine che vi dicevo di 10.000 pips io per una strategia contraria voglio dire al mio sistema voglio con un capitale di 1000 euro rischiare che ne so 1000 pips e quindi se mi va contro e quindi voglio fare massimo che ne so tre tre ordini quindi il sistema mi dice che per fare questo tipo di operatività che è rischiosa perché io qui non posso mettere degli stop perché non so dove si ferma il prezzo posso utilizzare sicuramente anche posso aiutarmi con i con i bigger number ma a volte vengono diciamo oltrepassati per poi ritornare quindi in questo caso è destinare una marginazione in pips a questo tipo di strategie dire ok io qui mi brucio termine brutto ma è così il conto se perdo 1000 pips da questa strategia prima o poi con tre entrate riesco ad essere profittevole in questo caso eh la prima operativa operazione del tredici dicembre ci ha eh ci ha dato un drawdown di cento pips quindi è andato ci è andato oltre di cento pips la seconda che sarebbe questa di sessanta pips perché vedete qui l'ha segnato io sarei entrato qui la terza del tredici dicembre di quaranta pips di drawdown quindi ci è andato contro la prima di cento pips di pips la seconda di sessanta e la terza di quaranta e non è mai ritornata all'open quindi in questi casi come faccio a eh a trovare una via d'uscita in questi casi devo utilizzare eh diciamo devo avere come riferimento la prima entrata quindi dire voglio chiudere tutto alla alla prima verso la prima entrata perché in questo caso vedete che prezzo sarà un caso sarà quello che volete però è andato proprio a testare il primo lì e questo livello qui di entrata quindi con un'entrata multima qui qui e qui avrei chiuso tutto in questa situazione poi eh portandomi eh comunque un guadagno eh sulla di prima sulla prima chiusa a zero la seconda di venti pips e la terza di quarantacinque pips quindi anche contro trend ho guadagnato eh ovviamente questo eh va fatto cioè battagliato battagliato la perdita eh cercare di trovare un modo per non andare sempre contro trend perché queste strategie io sono sempre restivo a a proporle perché la natura del trend era un po' strana nel senso che comunque non ci piace perdere quindi siamo convinti che il prezzo prima o poi ritorni su propri passi però a volte non lo fa quindi se entriamo qui eh ci parte di 200-300 pips appunto dobbiamo utilizzare una marginazione che eh sì ci porta a zero il conto però dobbiamo eh dobbiamo avere una regola e la miglior regola in questo caso è delegare sempre la macchina e eh farlo con un sistema automatico che ci chiuda in automatico in stop out non utilizzate lo stop out del eh del broker perché se parte la volatilità magari lo stop non mi viene eseguito a un prezzo ma fatelo fare alla macchina ad esempio un semplice strumento come questo vi dà eh potete mettere in macchina uno stop di in pips o in 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 euro in questo caso e dire io ho 5.000 euro sul conto a 2.500 euro chiudimi tutto questo tipo di approccio oltre a quelle contrarie ne va bene anche su queste diciamo strategie come questa che sto facendo adesso di sullo swap dove praticamente sto vendendo tutti o comprando tutti gli strumenti che eh sono a favore di swap e perché ovviamente quando siete a mercato a favore di swap eh guadagnate con il passare del tempo eh quindi è una strategia che molti fanno ma è una strategia molto pericolosa perché appunto non ci sono non c'è un uno stop prefissato e come potete vedere vedete che qui di swap solo eh su questo conto sta guadagnando 215 dollari quindi ogni giorno che passa guadagna è una buona strategia va a fatto una valutazione di portafoglio ogni mese almeno quindi controllare gli swap che non siano cambiati e quindi però bisogna dare uno stop al al conto utilizzando anche dei sistemi automatici quindi in questo caso eh mi chiuderà tutto nel caso dovesse andare a colpirmi 2.500 euro di perdita dell'equity e quindi in questo modo vi aiutate e l'automatazione in questi casi assolutamente eh indispensabile eh vediamo un po' beh siamo già ancora oltre 60 iscritti 60 partecipanti eh vediamo un po' il diciamo il pattern più eh in voga adesso è lo swing trading in chat eh adesso lo rispiego un attimo utilizzando eh sempre un caso studio che ho avuto sul DAX perché è molto bello questo sul DAX ehm come sempre per capire come operare eh in questi casi la media mobile è sempre la migliore perché ci dà già una direzione allora con il DAX caso di studio eh partendo dal 20 novembre lo che cos'è lo swing partner eh praticamente dobbiamo aspettare una serie di candele direzionali o rialziste o eh ribassiste una serie quindi in questo caso abbiamo più di tre barre rialziste aspettare poi uno swing ed entrare il al primo eh al primo diciamo al primo momento utile però eh c'è un diciamo un trucco che permette di avere una diciamo un setup eh tra virgolette migliore che aspettare un falso breakout siccome è sempre meglio farlo in modo oggettivo il falso breakout si ricava con questo sempre indicatore supporto di bari oppure potete usare sempre i frattali perché è la stessa cosa quindi come sto come in questo caso eh c'è la rottura del frattato eh di questo supporto falsa rottura il prezzo ritorna quindi fa quella che io chiamo un'onda di rialzo con questa serie di tre barre e rifà un 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 respiro e poi noi piazziamo un by stop sempre in by stop in questo caso qui eh è un po' come se fosse non so eh molti di voi sicuramente conosceranno il l'uncino di Ross è simile diciamo che è simile perché abbiamo un rialzo e poi andiamo a cercare i massimi però qui sempre ci aiutiamo con il trailing stop che ci dà lo stesso eh lo stesso pattern eh quindi in questo caso sarei entrato in questa situazione sarei subito uscito in quest'altra perché vedete che poi è andata ci è andato contro anche qui stessa situazione eh falso breakout del supporto o dei rialziste quattro quindi ci dice eh il mercato stesso in base alla frettalità che noi stiamo avendo in questo momento che eh sono arrivati ci sono stati degli acquisti più degli acquisti che delle eh che eh delle vendite e quindi questo è oggettivo perché ce lo indicano le barre di rialzo qui chi ha eh chi porta il prezzo qui sta comprando o chi ha venduto qui si sta stoppando quindi non è ehm non stiamo tradando un qualcosa che non ha logica è una logica di di mercato eh quindi entrando in questa situazione qui uscirei in quest'altra uscirei subito qui quindi porterai comunque in trailing stop vedete come la media mobile segue bene il il diciamo il trend e quindi una volta uscito qui devo aspettarmi un altro falso breakout che avviene in quest'area qui aspettarmi le mie onde rialziste che arrivano puntualmente e ingresso sulla prima barra sul primo swing disponibile quindi barra rialzista barra di respiro rossa contro trend piazzo un buy stop qui vengo seguito in questa zona più o meno e seguo il il trend con con poi un'uscita in questa magari in questa zona qui poi se sono più bravo e dico non me ne faccio nulla di 90 pip vado eh vado oltre però comunque in questa zona sarei uscito e eh vediamo se ho scritto bene nel caso di studio del 20 avrei fatto pochi punti 6 25 però non avrei fatto grossi danni il 21 di novembre quindi il giorno dopo vediamo se il DAX si come si comporta va bene anche il take profit assolutamente sì perché anzi con il lo stavo per dire nel senso se io entro qui sempre lo stesso trucco vado a cercarmi la prima resistenza eh su un time frame superiore oppure sull'h1 senza perché io qui non posso sapere qual è la prima resistenza utile no probabilmente la prima resistenza utile su un time frame superiore è qui quindi se io entro qui io posso piazzarmi un take profit qui perché ho uno stop adeguato e un take profit adeguato questi sono dei diciamo dei io adesso a me piace il training stop perché questo eh questo tipo di training stop segue molto bene quando parte il eh la la direzionalità l'altro eh l'altro l'altra giornata del 21 vedete anche qui c'è stato un falso breakout vedete com'è bello chiaro tre barre rialziste che vanno a posizionarsi sopra la media mobile entro in questa situazione qui e vado a piazzarmi eh in short io qui non vedo perché anche qui si fa durante l'operare l'operatività di Londra perché è lì che arriva volatilità quindi l'on il DAX apre qui alle dieci alle nove quindi io da qui devo cercarmi il setup falso breakout arriva l'onda rialzista di tre barre subito il respiro che non va sotto il minimo entro qui e poi se io seguo e guardate come il training stop riesco a seguire bene senza farmi uscire fino al target allora vediamo ritorno col bias l'ho spiegato eh vi faccio vedere la piramidazione una piramidazione fallita sempre con questo swing partner così rimaniamo in tema però non mi ricordo su quale piattaforma non messa eh forse sempre la stessa ah eccola qui sempre con la stessa logica eh qui invece di utilizzare lo stesso time frame mi sposto di time frame cercando lo stesso il medesimo pattern quindi eh sull'M5 vediamo il pattern che si verifica qui c'è la falsa rottura sopra la media mobile 100 entro in questo in questa fascia qui qui l'obiettivo non è fare il training stop ma fare la piramidazione perché è un target che ne so che ho piazzato sul grafico eh un grafico superiore weekly che è una resistenza che deve andare a prendermi eh quindi entro in questa eh in questa in quest'area qui seguendo appunto poi il 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 partner che deve verificarsi sfruttando la frattilità dei mercati sull'M15 e arriva anche qui sull'M15 vedete falsa rottura onda rialzista una due tre barre entro qui sull'M15 quindi ho due entrate sull'M5 e sull'M15 poi sull'M30 stessa cosa pattern rialzista entro qui allora la gestione l'abbiamo vista un po' all'inizio eh forse non è registrato però la gestione per non sovraccaricare troppo le posizioni posso spostare man mano che passo al time frame successivo ad esempio sono entrato sull'M30 eh adesso sull'M30 il mio swing è qui sotto quindi potrei spiazzare uno stop loss qui sotto che mi sfiora ma non mi prende e spostare man mano l'M5 qui e l'M15 qui finché non arriva poi sull'H1 quello che ci fa fallire un po' tutto la premia d'azione perché anche qui vedete tre barre rialzista entrerei qui stoppandomi subito qui sotto questo primo swing eh l'M5 verrebbe tolto subito di eh circa diciamo l'M1 scusate andrebbe a prendersi lo stop di circa io qui l'ho parametrizzati l'ho scritti prima quindi stop eh sono perso ah si sull'H1 stop di 28 pips sull'M30 di 25 pips eh poi il target diciamo quello il maggiore profitto anche in una prima di azione fallita che quindi non è arrivata fino al al grafico weekly magari quindi non è stata non c'è stata permessa una prima di azione su tutti i time frame ha comunque portato un guadagno totale di 156 eh pips allora eh ho l'ultima l'ultima strategia sempre per eh verificare il BS di mercato basandosi sull'analisi dei retail sicuramente chi segue la chat eh chi segue la chat sa che io ogni mattina posto delle analisi eh su una tabella eh l'analisi dei retail eh ve la faccio vedere un attimo allora io ogni giorno quindi posto quest'analisi eh ci sono diverse fonti qui ci sono diversi broker provider che pubblicizzano cioè pubblicano queste eh queste eh diciamo posizioni di retail e utilizzo questa indicazione come i contrarian quindi ad esempio se il adesso come in questi casi come in questi giorni il abbiamo un'esposizione short cerco dei setup operativi long un caso di studio che poi eh non è proprio un caso di studio perché si è verificato anche poi sul sull'operatività anche se avrei potuto fare sicuramente meglio ma eh anche questo webinar serve anche per per questo per migliorare eh i setup ehm è stato preso diciamo è stato tutto è stato cavalcato in queste situazioni eh grazie a un buon BS rialzisse che si è avuto su euro dollaro eh che io ho intercettato con l'analisi di retail che adesso vi spiego allora tutto è partito da questo che e poi sempre la stessa eh la stessa cosa un falso breakout che io poi ho visto grazie eh ho potuto verificare grazie all'analisi eh delle posizioni eh retail ehm ad esempio in questa questo BRN di 1,16 che vi faccio vedere ho notato un un aumento delle posizioni short quando c'è stato questo diciamo questa queste queste grosse barre rialziste eh scusate ribassiste eh in questa zona qui ho notato con l'analisi retail quindi poi mostrato su i vari social quindi eh annunciando appunto un'esposizione massiccia degli short e da qui ho cercato dei setup rialzisti che ho seguito quindi adesso anche qui magari c'è adesso una esposizione in short eh massiccia in short però vedete che è diversa da questa situazione qui perché qui ho già ho soffrito di eh di oltre 200 pips mentre qui ancora diciamo siamo sul laterale però questa eh zona qui ehm risultata essere molto interessante e come avremmo potuto lavorare questo tipo di eh di bias che capita è capitato già a nei precedenti quando e poi è partito il il trend dopo le elezioni di di aprile eh in Francia è partito un forte bias rialziste sul sull'euro dollaro che eh utilizzando poi l'analisi contraria in retail i retail da qui da questo zona qui fino a a qui lo hanno fatto tutto in short con punte anche dell'ottanta per cento quindi è un eh non è che i retail muovono il mercato ma ehm è buona cosa secondo me controllarsi ogni mattina un'analisi di retail perché potete accedere a tutti questi dati sono pubblici vi fate una una tabella come ho fatto io in questi casi e ehm vi dà il bias come potete quindi sfruttare questo tipo di bias allora ehm dal 10 di novembre in questo caso ritorno sulla schermata scusate ma inizio a ehm avere qualche accenno di stanchezza ma resistiamo allora dov'è che era ok dal 10 novembre avrei potuto sfruttare sempre con un semplice pattern breakout quello che vi ho fatto vedere prima e eh costruirmi una piramidazione sempre sullo stesso time frame quindi partendo dal eh da qui dal 10 novembre io so che qui sono tutti short quindi devo ehm assolutamente sfruttare questo tipo di operatività posso sbagliarmi non posso sbagliarmi però io devo massimizzare i miei profitti perché c'è questo bias che può darmi delle situazioni di eh di profitto quindi che cosa devo fare eh qui io so che c'è un'esposizione short mi dico il prezzo dove può arrivare il prezzo può arrivare sulla prima resistenza che vedo dal grafico quindi sul grafico degli mi vado a vedermi delle resistenze e punto a un all'area uno 1880 quindi ogni giorno scusate mi vedo il bias sull'analisi retail ho in mente di raggiungere questo target di uno 1880 perché non lo dico io ma ci sono delle eh qui ci sono degli chi si è messo short qui ha degli stop quindi io qui posso andare a è molto probabile che se il trend deve partire sicuramente si va a vedere queste posizioni quindi io dal 10 novembre dico ho il bias rialzista ogni entrata che faccio deve arrivare a uno 1880 quindi entro qui vedete il breakout resistenza pongo il breakout qui il trend parte non metto subito lo stop aspetto che faccio un nuovo massimo che lo fa qui e quindi qui mi posiziono in stop a pari ehm poi il prezzo il giorno dopo mi viene a prendere quindi lo stop però io non demordo perché mi fa uscire qui quindi non ho guadagnato nulla questo giorno adesso vi faccio vedere proprio la serie storica come ci siamo arrivati a a quel target eh quindi il giorno dopo sono il giorno dopo sono demoralizzato perché eh il prezzo magari mi è salito di 80 pips 90 pips quello che è mi è tornato indietro quindi sono uscito però non ho perso però devo cercare un altro eh pattern che ho in questa situazione qui vedete entro qui vai con stop sotto il minimo entro qui vai e e cerco di eh quindi aspetto che mi faccio un nuovo massimo lo fa mi metto a pari e aspetto quindi me ne vado mi alzo vado a fare un giro provo altre strategie e vediamo come finalmente il giorno dopo questo 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 setup operativo eh sia partito però io non non mi fermo qui perché devo costruire una piramidazione quindi il giorno dopo io devo andarmi a cercare lo stesso setup quindi ho già quella posizione in eh al sicuro eh adesso devo cercare lo stesso pattern quindi mi alzo la mattina non so alle sette di mattina alle otto quello che aspettiamo magari un orario decente eh però qui possiamo anche non aspettare Londra perché comunque abbiamo un BS rialzista forte entro qui long in questa situazione quindi ho la seconda operazione che che entra e vedete e e lascio lì la posizione vedete come il prezzo poi parte e ho due posizioni che mi stanno guadagnando stessa cosa il successivo giorno il successivo giorno ehm ho un BS rialzista in questa zona qui poi ne ho un altro qui però magari non so mettiamo il caso che non avessi preso questo ma questo se fossi entrato più in più in alto sarei stato stoppato questo giorno in pari però sempre quelle altre posizioni che mi stanno guadagnando perché il mio obiettivo è uno 1880 che sfiora però non prende uno 1860 con eh adesso ovviamente magari molti sarebbero già usciti in questa situazione ma altri magari resistono perché il target di uno 1880 perché magari dalla resistenza può poi può accadere qualcosa che vi faccio vedere che in effetti poi accade e quindi i prezzi mi ritornano le mie posizioni che però non sono state ancora eh beccate diciamo non sono state ancora prese in break even e ho questa situazione qui del giorno 16 vedete mi prendo uno stop eh che potevo anche evitare perché fa poi un nuovo massimo e quindi potevo mettermi subito stop a pari però se non avessi messo lo stop mi mi sarei stoppato in quest'area quindi il giorno 16 nonostante eh non so se ci fate caso ma stiamo facendo il contrario di quello che la maggior parte dei trader fa cioè prende profitto pochi profitti e lascia correre le perdite esattamente invece noi con il modo oggettivo stiamo facendo correre i profitti e tagliando le gambe a quei a quelle operazioni che non vanno a mercato eh che non vanno a profitto sarei potuto entrare anche in quest'altra situazione perché vedete c'è qui la resistenza entrando qui sarei uscito in questa situazione poi eh non ho altre situazioni perché eh è una tecnica in 3 day non andiamo a cercare in fase di bassa eh liquidità quindi poi altre altri due stop in quest'area qui anzi no in questo caso no perché mi sarei messo subito in stop qui perché fa il nuovo massimo e poi lo rifà un altro quindi mi devo mettere stop a pari stop in questa situazione qui stop o non stop questo poi dipende sempre da se eh noi lo valutiamo con uno uno stop un nuovo massimo oppure no però noi facciamo il caso peggiore quindi uno stop in questa quest'area qui venticinque pips e sembra quindi che in questi casi la nostra view non sia proprio corretta eh anche perché il giorno dopo oltre ad aver preso due stop e avere dei profitti virtuali il giorno dopo il venti noi prendiamo un altro sessantacinque pips che ci ritornano di nuovo tutti in faccia quindi questa strategia dico già che è per pochi perché sfido comunque chiunque eh è una cosa che anch'io eh con cui anch'io devo fare i conti perché quando vedi già cinque posizioni che sono in guadagno di oltre 200 o 300 pips eh ti fai due conti e dici ma sì chi se ne frega del del target vado a chiudere prima però seguendo proprio questa regola eh anche in questo caso sarebbe tornato indietro qui altra altra situazione molto eh nevrotica per eh per il mercato e sicuramente per la diciamo per la psicologia del trader perché entro qui long mi viene a eh stoppare qui sotto perché io se sono stoppato qui sono qui sotto qualcuno chiamerebbe cacciagli stop ma in realtà fa un falso breakout che fallisce e e poi ritorna sui suoi passi quindi avrei preso accusato uno stop quindi eh sembra che appunto il la mia view eh il bassista eh stia trabbalando ma in realtà poi arriva eh diciamo un altro pattern in questa situazione e dove entro qui aspetto il nuovo massimo sempre mi metto a pari e il prezzo anche qui parte e parte forte perché ho comunque un'altra posizione che si va ad aggiungere ad altre che sono già in profitto il giorno dopo perché è uno diciotto e ottanta ancora non c'è arrivato il giorno dopo entro anche in quest'altra area qui poi io adesso sto andando veloce perché siamo oltre due ore e mezzo poi voi potete verificare questo storico in modo tale che le entrate siano corretti eh tutto iniziato dal 10 novembre eh e quindi vedete potete verificare voi stessi che poi sia stato effettivamente eh seguito il diciamo un iter io comunque sarei entrato qui ehm toppandomi in brecchimento probabilmente in quest'area qui perché qui è il nuovo massimo ma il nuovo massimo poi viene fatto qui perché il close è qui sopra quindi poi eh qui avrei preso magari qualche altro piccolo stop se però non tradate quando siamo già comunque c'è poca liquidità il 23 novembre non credo forse fosse eh qualche festività ma non ne sono sicuro però poi andate nel nel giorno successivo del 24 novembre arriva un altro setup giusto che ci fa eh guadagnare e vedete che cosa succede sul livello di uno 1880 e il prezzo esplode perché era una resistenza in questi casi non chiudiamo a take profit ma seguiamo sempre con il training stop con i frattali e quindi saremo usciti intorno all'area uno diciannove e trenta quindi nella nel calcolo finale magari ogni stop eh per correttezza ci metto qualche stop in più perché forse me lo sono perso allora la prima avrebbe guadagnato 280 pips la seconda una seconda 250 la terza eh la quarta la terza centottante la quarta 80 pips eh quindi due stop più altri in break even diciamo io ho conteggiato 747 pips eh prendiamone altri due due stop della della vedete che sono sempre 24 pips perché più o meno la volatilità dell'euro dollaro è quella eh sul cinque minuti quindi gli stop utili sono sui 25 pips quindi tolgo altri 50 pips ma facciamo un altro stop quindi mi metto altri tre stop di fila quindi da 747 eh mi levo altri 75 pips sono 670 pips eh fatto con un rialzo da questi da questa zona qui di 250 pips quindi io ho massimizzato il mio bias e ho portato in modo eh in modo proficuo il profitto a casa cosa che io ho cercato di fare in base ai miei impegni che è stato poi fatto eh sul conto eh su questo conto eh e quindi quello che io adesso ho spiegato teoricamente in parte si è verificato anche concretamente perché sono riuscito comunque a seguire quel bias in modo diciamo eh corretto ehm chiudo con queste ultime tre slide per chi fa scalping mi raccomando di sempre di capire la forchetta del bid e ask perché quello che vi ho spiegato prima voi avete vedete i grafici bid ehm eh quindi su strumenti come euro dollaro l'incidenza di uno spread di un pips è solo dell'otto per cento eh contro una già una sterlina abbiamo un'incidenza del 44 per cento del dax del 20 per cento quindi eh sul bitcoin vedete che l'incidenza spread del 400 per cento su un grafico un minuto quindi non andate a fare scalping su bitcoin perché sarebbe eh assurdo farlo eh quindi ecco e questo è ticmille uno dei broker eh che ha gli spread molto più bassi del mercato quindi andate a controllare fate questo rapporto eh state sempre attenti inoltre cercate di evitare di lavorare con eh liquidità bassa potete andarlo a vedere direttamente su sempre sul sul mitico my fx book la liquidità di mercato eh adesso per un problema di chrome non me lo fa vedere che eh qui vengono appare questa schermata qui con eh tutta la eh liquidità del forex e quindi Londra e New York sono 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 quelle sempre che le sessioni che hanno più liquidità e quindi dove c'è la miglior offerta spread c'è la miglior volontilità e quindi potete eh adoperare delle eh delle tecniche di scalping profittevoli eh chiudiamo visto che ormai eh siamo eh giunti alla conclusione con le cattive quindi abitudini operative da eh non utilizzare nel 2018 utilizzare la martingala per migliorare il prezzo medio di carico quindi evitate di andare a raddoppiare l'esposizione su ogni eh su ogni trade se lo fate fatelo eh con un aumento di size proporzionato come vi ho fatto vedere nel caso di studio usare l'aging chiudendo le posizioni in profitto per lasciar correre quell'imperdita è una cattiva abitudine perché chi fa aging lo fa perché non accetta eh magari poi ci sono delle strategie che momentaneamente sono in aging perché c'è lo stesso setup non lo metto in dubbio però chi fa aging perché eh pensa di non incassare la perdita reale per mantenerla virtuale eh entra in una un circolo vizioso che porta a fargli chiudere quelle in profitto per far correre quelle in perdita quindi puoi dichiararsi un trend follower per poi chiudere le posizioni troppo presto senza lasciar correre i profitti quindi chi fa trend following e poi chiude le posizioni dopo 20 pips eh non fa una cosa corretta perché non stai facendo correre il il trend usare gli oscillatori le divergenze di prezzo senza tener conto dei fondamentali eh quindi eh magari si usa un 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 oscillatore in ipercomprato solo perché in ipercomprato ma magari è appena uscita una una news importante magari dove dice che Trump non accetta quella cosa che poi è successo tra l'altro in inizi del dello scorso anno quando Trump dichiarò che il dollaro era troppo forte e e quindi quella era una notizia che poteva far bisaggire a un aumento di trend e chi quindi chi va eh short eh magari solo perché l'ipercomprato dell'oscillatore senza tener conto dei fondamentali commette comunque anche delle degli errori poi autosabotarsi questa è una cosa molto eh purtroppo che molti molti fanno quelle di autosabotarsi cambiando continuamente strategia solo perché come come avevo detto il conto a poca eh a poco quindi poco margine quindi non si demoralizzano subito eh affidarsi ai servizi di copy training senza analizzare in modo corretto le statistiche quindi l'aspettativa che vi dicevo eh tener non tener conto quindi del markup e non seguire eh la propria operatività con attraverso MyFXbook eh quindi è una cosa che dove secondo me vi consiglio sinceramente di fare perché ci sono tante di quelle informazioni che eh vi sfugono quindi non eh dovete sapere che tipo di rischio rovina ha la vostra strategia o il vostro conto quindi le buone operative eh abitudini operative sono quelle di crearsi un portafoglio di strategie tenendo conto di tutto quello che abbiamo discusso durante il webinar eh non crearsi false eh non crearsi false aspettative eh sempre confrontarsi con un benchmark quindi con un indice o con un fondo come vi ho fatto vedere prima perché se un fondo fa il dieci per cento all'anno voi non potete pensare di fare il mille per cento all'anno potete anche farlo ma se lo fate perché sicuramente state investendo dei eh dei fondi non altissimi eh e quindi se volete fare del training in una professione dovete avere pazienza e costruirvi la strategia eh negli anni e anche pensare di diversificare il il training oltre che con delle strategie anche con altre attività proprio perché ci sono delle inevitabili fasi di drawdown che non si possono eh prevedere eh quindi non fare un altro errore non fare training a ridorso del rilascio della delle news non ha alcun senso fare training eh eh un minuto prima del rilascio della dei non far payroll perché anche se mi mettetelo by stop o se stop sopra il massimo il minimo c'è un aumento di spread proprio sproporzionato e ovviamente oltre all'aumento di spread c'è lo slippage che nell'ottanta per cento dei casi vi va a prendere sempre alla fine del movimento ehm abbassare le sites operative durante i momenti di alta volatilità quindi se c'è un aumento sproporzionato dell'alta volatilità abbassate le sites e per chi fa scalping intraday non fare training durante i momenti di bassa liquidità quindi durante la notte perché ci sono gli spread eh che aumentano possono aumentare perché non c'è controparte quindi non eh i liquidit provider ritirano la liquidità per poi rilasciarla durante gli orari di apertura di Londra. Bene io direi che questa lunga maratona eh è terminata eh vedo che ci sono diverse domande ehm io vi ho lasciato il eh diciamo il link della chat di Telegram se volete unitevi eh seguiremo poi per il nuovo anno eh appunto tutte queste strategie altre che ne verranno eh grazie per agli oltre cinquanta alle oltre cinquanta persone che hanno resistito fino adesso eh oltre due ore di di webinar non era il mio obiettivo ma eh volevo restare nell'ora nell'ora e mezza però eh gli argomenti eh come avete visto ne sono stati davvero tanti e quindi eh e quindi era doveroso dedicare il giusto tempo a a queste strategie spero che abbiate apprezzato questo eh questo webinar fatemelo capire ehm magari anche con eh qualche like su YouTube così posso poi proporre questi nuovi questi webinar eh a Ticmille e quindi farne eh farne altri eh e quindi eh detto questo io vi ringrazio e vi auguro buone feste e un buon anno a tutti e quindi